Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, ben ritrovati al nostro primo appuntamento con Torino Web News, una giornata che dal punto di vista meteorologico ci riserverà qualche sorpresa, quella di oggi, almeno così sembra dai dati che abbiamo. Intanto vediamo qualche notizia di viabilità, vi segnalo dei divieti di transito per lavori edili, nello specifico in via Valgioie, tra via Exile e Strada del Lionetto, in via Mantua, tra via Messina e Corso Regio Parco. Vi ricordo poi anche che ieri sono cominciati i lavori di asfaltatura dell'incrocio abbastanza complesso tra Corso Regina Margherita, via Pianezza e Corso Tassoni, sono dei lavori che dureranno circa un mese, prevedono ovviamente delle riduzioni di carreggiate, quindi la possibilità di traffico, visto l'elevato volume di traffico che solitamente c'è in quell'incrocio. Chiudo con dei semafori in manutenzione che sono quelli di Corso Toscana, angolo via Valprato e di Corso Tassoni, agli angoli con le vie Nicola Fabrizi e Migliara. Passando alla situazione del tempo, vi dicevo che è possibile qualche sorpresa nella giornata di oggi, perché abbiamo questa mattina intanto delle temperature intorno ai 25 gradi scarsi, siamo adesso alle 9.20 circa del mattino, l'umidità è però abbastanza alta, siamo intorno al 61%, il che aumenta la percezione sulla pelle di un paio di gradi sostanzialmente. Però sono in corso, stanno per iniziare dei temporali nell'arco alpino, al ridosso delle nostre montagne olimpiche, che è previsto che nel pomeriggio arrivino in città e quindi a partire dalla fascia intorno alle 15, le 16 di questo pomeriggio, questi temporali dovrebbero, diciamo dovrebbero perché anche nei giorni scorsi dovevano manifestarsi, ma ovviamente in questo periodo dell'anno le condizioni meteo cambiano da un momento all'altro, dicevo dovrebbero arrivare in città intorno al pomeriggio e durare fino a sera, fino intorno alle 21. Un'ultima raccomandazione, nella fascia oraria del pranzo dalle 12 alle 13 è segnalato un forte irradiamento solare con l'indice UV al di sopra del grado 8, quindi attenzione, mi raccomando, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Andiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali previsti per oggi, vi segnalo soltanto che sono ancora in piena attività le commissioni consigliari, sono le ultime riunioni prima della pausa estiva, questo perché venerdì è stato fissato un consiglio comunale straordinario che avrà inizio alle ore 14 e con seconda convocazione alle ore 20, lo potrete seguire ovviamente in diretta a partire dalla nostra home page, poi l'ultima riunione del consiglio comunale è prevista per la giornata di lunedì, come sempre alle ore 12. Passiamo a vedere le notizie adesso di Torino Click, la nostra agenzia quotidiana che sapete è curata dall'ufficio stampa e rapporti con i media, la trovate in formato pdf sulla nostra home page tutti i giorni, abbiamo scelto due articoli dall'edizione che è stata pubblicata ieri, il primo riguarda un accordo, un protocollo di intesa che è stato siglato ieri da Comune e Regione per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, molti punti dell'accordo, si è parlato di una riorganizzazione dell'intera rete del trasporto pubblico locale in virtù del prolungamento della linea 1 della metropolitana, che arriverà prima fino a Lingotto e poi fino a Piazza Bengasi, un altro punto all'ordine del giorno, l'aumento della velocità di servizio di tram e autobus grazie a nuove corsie riservate, controlli con le telecamere e alla precedenza i semafori anche agli autobus e poi si è parlato di riduzione dei costi di esercizio, aumento dei ricavi grazie al fatto di rendere il mezzo pubblico più attraente. Entro la fine del 2010 ci sarà un nuovo assetto societario di GTT che dovrebbe nelle intenzioni favorire tutte queste novità. Trovate un dettaglio completo anche sui futuri acquisti di autobus, proprio nell'articolo di Torino Click. L'altra notizia invece è quella relativa all'arrivo di Emergency a Torino, Emergency la conoscete, è un'organizzazione umanitaria che opera nei teatri di guerra dal punto di vista sanitario, ebbene da qualche anno, dal 2006, ha aperto anche un ambulatorio in Italia, a Palermo, per un poliambulatorio per servizi medici di base per gli indigenti, è previsto che una situazione del genere si possa verificare anche a Torino, Emergency ha ottenuto in concessione per 4 mesi in via provvisoria un edificio di proprietà comunale, in via Giacchino numero 30, per valutare la possibilità di realizzare questo poliambulatorio, per 4 mesi si valuterà se attivare questo progetto e come armonizzarlo ovviamente con il servizio sanitario nazionale. Andiamo a vedere adesso dalla nostra home page la notizia che abbiamo scelto per voi questa mattina, ci spostiamo sulla nostra prima pagina, la notizia è quella del bando riservato ai giovani artisti, dalla Fondazione Contrada di Torino che propone appunto questo bando per la riqualificazione di 3 facciate cieche di edifici, è un bando riservato under 35, l'escadenza per le iscrizioni è quella del 31 luglio, trovate a partire dalla notizia tutte le informazioni per poter partecipare se siete interessati. Adesso un'occhiata al traffico con le telecamere del Consorzio 5T, andiamo a vedere la situazione in Corso Agnelli all'angolo con Corso Cosenza, qui siamo nella direzione est su Corso Cosenza, come vedete l'incrocio a sgombro e non ci sono problemi di traffico, qui invece siamo al Martinetto in direzione di Corso Regina Margherita, direzione ovest, come vedete abbiamo un po' di incolonnamenti anche perché questa zona è quella molto vicina ai lavori di asfaltatura che vi dicevo prima. Ci spostiamo poi in Corso Turati all'angolo con Corso Sommelier, dietro la stazione di Porta Nuova, situazione tranquilla in uscita e in entrata dal quartiere della Crocetta, e qui invece siamo sul fiume Po in Corso Cairoli, come vedete una situazione assolutamente tranquilla, non c'è neanche un'auto in questo momento in quel punto della città. Grazie allora per averci seguito, vi ricordo che gli aggiornamenti sulla situazione meteo saranno costanti sui nostri social network, Facebook e Twitter della città, li trovate dalla prima pagina in alto a destra, grazie a Mario Parrena per la messa in onda e a voi una buona giornata.